Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Garcini. Iniziamo dalla 1, dove sulla variante di Valico in direzione Bologna ci sono 4 km di coda. Per un incidente è venuto al km 12.500 in galleria tra Firenzuola e il bivio con la variante di Valico La Quercia. Stanotte in orario 21.06 sarà chiuso il tratto tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Roncobilaccio in direzione Bologna. In A15 una notizia che può interessare i toscani, incidente dove ci sono lavori al km 101 tra la Spezia e l'allacciamento con la 12 in direzione Parma. Sulla strada regionale 2 via Cassia, senso unico alternato per il restringimento della carreggiata tra km 278 e 900 e 279 e 500 nel comune di San Casciano in Val di Pesa. Ed è tutto, buon viaggio!